Il suo nome era Geruttigino, ma lo chiamavano Drago. Gli amici, al dar del giambellino, dicevano che era un mago. Era un mago. Tutto il contrario delle favole. Non è il figlio del sovrano che deve uccidere il drago per liberare la principessa, ma il drago, anzi il Draghi, che deve salvare la principessa Euro dai guai causati dal sovrano. Il debito sovrano, si intende, la cui crisi di affidabilità genera un concreto rischio di default in Grecia e di letale contagio in Spagna e in Italia. Mario Draghi non abita in una caverna come i suoi omonimi delle saghe fantasy, bensì negli arditi grattaceni in ferrovetro della Banca Centrale Europea, a Francoforte. Anche lui, però, fa la guardia a un tesoro. Quello del capitale della banca, che è pari a circa 11 miliardi di euro, e quello dei quasi 15 miliardi di banconote, per un valore di circa 800 miliardi, che circolano nel territorio dell'Unione. Dalla tolda relativamente tranquilla di Banca Italia, cioè di una banca centrale che ha serissimi poteri di vigilanza sul sistema bancario, ma non ha una moneta su cui vigilare, Draghi è passato nel cuore della burrasca, custode e garante dell'unica moneta al mondo che non ha alle spalle uno Stato, e che per giunta ha poteri di vigilanza bancaria estremamente ridotti. Come evitare che lo spread condanni l'Italia a pagare interessi insostenibili per i suoi titoli di Stato? Come impedire che le banche spagnole salvate dal fallimento continuino a finanziare gli acquisti stellari di Real e Barcellona? Un rebus difficile, perché, a differenza del suo collega governatore dell'americana Federal Reserve, Draghi non può stampare moneta a proprio piacimento, né può proporsi come prestatore di ultima istanza. Per ora, perché il fiscal compact, le politiche di convergenza sempre più cogenti e gli interventi sempre più massicci sulle strategie di risanamento stanno costruendo in capo alla BCE un potere di supplenza delle decisioni politiche che l'Europa non sa prendere, tutt'altro che trascurabile. Lui non ha fatto mistero, anche nella recente intervista a Le Monde, di essere pronto a difendere l'euro, anche a prezzo di una interpretazione spinta dei suoi poteri. Per il momento si sforza di fare squadra con Mario Monti, in una sorta di traduzione latina dei Super Mario Brothers. Ma il videogame dell'Eurozona e della crisi mondiale si sta rivelando ogni giorno più difficile.